Ciao a tutti amicosi, io sono Sara e bentornati in questo nuovissimo video sul lettering. In un commento mi avevate scritto, praticamente se vi potevo far vedere varie scritte, cioè la scritta love, come si potrebbe fare il lettering. Bene, iniziamo, vabbè, qui ho messo un piccolo titolo, vabbè, la web è andata un po', vabbè, lasciamo perdere, cioè la v, scusate. Allora, iniziamo, ve lo inizio a far vedere con gli evidenziatori. Ok, eccole qui, ho preso le due tonalità di viola e ora vi farò vedere con gli evidenziatori cosa possiamo fare con la scritta love. Allora, inizio con questo qui color pastello e possiamo, cioè, vabbè, proprio la, una cosa basiliare per scriverlo è appunto prendere un evidenziatore o anche un colore a vostra scelta e scriverlo in corsivo. Ok, eccolo qui, io per esempio l'ho scritto appunto così in corsivo, ma noi però, cioè, scrivendolo in corsivo, cioè, vedete qui come ho fatto il titolo? Potremmo fare così anche a questa scritta qui, quindi la vado a rifare anche con il corsivo. Ok, ecco qui, in questo caso io ho usato il tratto pen perché qui vicino a me non avevo una penna nera, però comunque va bene sia la penna nera che il tratto penne o anche le penne Bic nere, vabbè, comunque, un po' di iuto. Ehm, bene, ora invece ve la farò vedere in un'altra maniera. Ok, eccola qui in un'altra maniera. Ora prendo questo qui, cioè, in realtà ora ci servono entrambi, solo che vado ad usare prima questo qui, scrivendo normalmente love in stampatello, e vedete praticamente quasi, penso tutti gli evidenziatori, hanno comunque una puntina, e noi dobbiamo andare a scrivere non con tutto l'evidenziatore, con tutto il tratto, ma solamente con la puntina. Eccolo qui, cioè, solo con la puntina, ma in realtà sapete anche semplicemente un pennarello viola, potete usare il pennarello, cioè, viene uguale. E ora invece andremo ad usare anche quest'altro qui, il pastello, per fare delle righette qui vicino, appunto, alle lettere. Ecco qui, poi voi magari potete decidere di farlo, cioè, proprio su tutta la lettera. Io però ho deciso di farlo così perché a me piace un po' più così. Allora, io rimango sempre dell'idea che, cioè, a me piace più di tutti quanti questo qui, che è. Comunque, allora, ora vado a prendere gli altri pennarelli, le brush pen, vi faccio vedere anche in altre maniere. Ok, eccole qui, non so se funzioneranno molto bene perché sono un po' scariche, comunque vi faccio vedere. Benissimo, tra questi due qui che vi ho fatto vedere, prima ho scelto questo perché funziona meglio, quindi... Allora, secondo me, a questi qui che appunto hanno la punta morbida si potrebbe fare una scritta in corsivo, cioè, come questa qui, solo appunto con questo. Ok, ecco qui, praticamente la mia L sembra una O, ma comunque è una L. Comunque è così. Allora, praticamente, questi qua non va usata solo la puntina, cioè, non va usata solo la puntina, ma va proprio... vi faccio vedere come si fa, la facciamo prima. Ora non ve lo faccio vedere su tutte le lettere perché... no, cioè... vi faccio vedere sulla L. Allora, vedete come la metto la punta... così... e poi, vabbè, continuo a scrivere. Poi, magari, in certi casi vado un po' più leggera, in altri, vabbè, dipende. Vabbè, ora questa scritta qui è andata orrenda, comunque, vabbè. Poi, praticamente, qui lo vedete che è un po' più scuro, vabbè, ci manca un po' di più e diventa scuro, cioè, il problema non c'è. Mentre, ritornando, invece, a questi qua con gli evidenziatori, cioè, mi avendo un'idea praticamente, cioè, verrebbe bene, cioè, secondo me, anche sottolineato esattamente così. Ecco qui, esattamente così. Allora, come potete vedere, però, cioè, il colore è lo stesso, solo che qui è un po' più scuro e qui è un po' più chiaro. Perché? Bene, perché io su questo qui ci ho calcato ben tre volte, appunto, per farlo venire più scuro. Successivamente, una cosa che io non sono mai riuscita a fare e che andava di moda qualche anno fa, era, praticamente, la scritta love, cioè, che la L era attaccata a un cuore. Io ora ci provo a farvela vedere e spero che venga bene. Ok, ragazzi, ci ho provato, è venuta così. Allora, io prima di registrare questo video, comunque, ci ho provato varie volte, devo dire che sono abbastanza migliorata. Allora, praticamente, prima bisogna scrivere OVE. una volta che abbiamo scritto OVE, dobbiamo allungare la E così, poi facciamo così, e da qui iniziamo a fare la L in corsivo, e successivamente così, così. Cioè, è praticamente così. Io all'inizio, praticamente, facevo tutta un'altra cosa, cioè, cioè, io praticamente all'inizio, come potete vedere, come ho fatto qui, praticamente sbagliavo a mettere la L, cioè, perché a me veniva, cioè, da metterla così, invece, appunto, poi, mi avevo scoperto, cioè, io lo so che la L si mette così, solo che io non riuscivo, perché non capivo come si faceva. E, è così. Comunque, il video di oggi finisce qui, spero che questo tutorial vi sia stato utile, e niente. Ciao!